Musica Ciao a tutti ragazzi, qui oggi è Snakino e sono tornato ieri dalle vacanze e non sapendo se oggi riuscivo a registrare Skypyramid appunto per domani, lunedì ho deciso intanto di fare questo piccolo video piccolo, non so quanto sia onestamente perché lo sto registrando la prima volta così velocemente e appunto per portarvelo e non lasciarvi senza video il lunedì anche perché mi sembrava un buon video è stata una cosa carina perché durante queste vacanze non sono state quelle vacanze che tipo vai in spiaggia o vai a prendere il sole è stata una vacanza rilassante io ho un'altra casa verso il sud così in un paesino e là ti vai più che altro a rilassare così e mi ero portato anche il computer cioè avevo minecraft lol allora ho avuto anche la possibilità di giocare a minecraft e mi è riuscito a questo mondo carino così e se mi è venuta così l'idea se si poteva fare che usavo questa mappa come mondo anche per la mappa che dovremo fare dopo la serie di escape pyramid io e xeon quella survival che avevamo detto è un tutto di guadagnato e adesso scoprirete il perché pensavo di utilizzare questa mappa comunque come potete vedere ero spawnato in un punto abbastanza deserto c'era tutta acqua dietro di me dove non sto inquadrando diciamo che c'è una montagna ma niente l'intrepido ghost ha voluto costruirsi una casa adesso leviamo l'inquadratura in terza persona ull ecco qua la nostra casa mi ci sono messo di impegno eh ho perso un bel po' di tempo adesso vi faccio vedere un po' intorno a questa casa che cosa ci sta guardate il tetto come mi è venuto figo allora come possiamo vedere siamo in su una montagna cioè mi sono messo in riva alla spiaggia ma c'è una montagna un po' di tutto insomma tutto ghiacciato innevato mi sembrava un posto figo allora niente mi sono voluto costruire la mia casetta qui in riva al mare e ho detto come la faccio ah se sentite le voci o dei rumori strani è perché stanno facendo un traslogo qui da me e quindi si sentirà un casino allora ho iniziato così visto che sto nella 1.2.5 e molti mi avevano detto che gli zombie spaccavano le porte mi sono fatto anche le porte in metallo eh allora benvenuti alla casa delle vacanze di snachino possiamo entrare dentro qui come potete vedere ci sono dei pulsanti ah ve la faccio vedere dall'esterno intanto delle belle vetrate vedete bello bello e adesso entriamo dentro prima un tuffo ok così tanto per perdere un po' di tempo no scherzo allora possiamo entrare nella nostra casa via oddio 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 ecco qua lo sapevo non riesco mai ok allora in prima cosa ho voluto creare un tavolino da pranzo con delle sedie così tanto per abbellire perché non sapevo cosa metterci qui sopra con vista mare beh aspettate ora vi faccio vedere l'impressione che avevo cioè l'idea che avevo avuto aspetta ecco così beh figo no io la vorrei una casa realmente così ah sto giocando senza texture pack perché l'ho giocato così e quindi avevo voglia di farvelo vedere così com'era qui in molti video ho visto che si facevano il televisore con la lana bianca e dentro nera beh io pensavo di farlo con la lana fuori che fa la cornice ecco i quadri dentro perché così sembrava proprio che c'era qualcosa dentro il televisore e guardate che bel televisore mega ultra super mega 50 pollici e niente mi sembrava un'idea carina e quindi l'ho fatto comunque questo qua è il piano di sopra diciamo qui avevo pensato di metterci un lampadario ma per adesso non c'è niente e ah il pavimento l'ho fatto con la sabbia compressa perché aveva questo effetto fico di boh di marmo tipo quindi ho pensato di farlo così e sotto ci sta il rustico diciamo per chi se lo chiedesse perché ho tutti questi quadri e tutte queste librerie oltre a spawnare su un'isola e su una montagna sono spawnato anche dove c'erano 2000 pecore che ho prontamente ucciso tutte quante e anche delle canne da zucchero quindi ne ho approfittate e ho fatto tutte queste robe allora qui c'è un quadro che ci ho messo 8 anni prima di farlo uscire così grande molto carino qui varie chest con delle cose dentro ho fatto due workbench work workbench vabbè insomma quello per riempire ma pure perché la mappa appunto la dovremmo fare in due e due fornaci con ovviamente la roba dentro ah vedete too many item perché mi serviva per nel caso morivo o cose del genere potevo salvarmi le cose qui dentro negli slot ma adesso ve lo faccio vedere come cioè io adesso faccio così adesso per esempio butto questo così butto sti due che ci ho messo anni per trovarmi tutte ste cose adesso io facendo load vedete mi ricapitano e visto che a un certo punto avevo pensato appunto di fare questa casa per la mappa survival ho detto non voglio perdere tutto quanto e ogni cavolata salvo senza perdere mai un file però vi giuro ho fatto tutto quanto con le mie dolci manine ci ho messo quasi una settimana a fare tutto e allora ovviamente non useremo too many item nella mappa survival cioè lo useremo soltanto se ce lo dite voi o cavolate varie io ce l'ho appunto perché mi serviva per non perdere i file così comunque qui dentro vabbè ci sono varie zuppette funghi roba da mangiare qua dei materiali che ho trovato sfortunatamente per farmi tutta l'armatura non mi è rimasto nemmeno un po' di ferro però poi vi farò vedere qua c'è soltanto degli utensili di pietra e qui niente perché non ho avuto tutto il tempo di riempirmi tutto qui c'è la mia camera poi Xeon se ne dovrà fare una non so dove con un quadro del creeper ovviamente qua e ho deciso di farmi una vista sottomarina perché qua sta sotto il livello del mare e ho detto beh sarebbe fico ora me la faccio guardate che fico che è comunque la particolarità di questa mappa è come avete potuto sentire ho sentito questo rumore strano e mi sono ricordato che in un video avevo sentito che quando cioè avevano detto che quando si sentiva questo rumore significava che c'era la fortezza e il coso del del the end e ho detto quale migliore occasione appunto dopo aver sentito questo è fare una mappa survival da fare con Xeon qui perché se metti caso lo trovo è fatta allora qui mi sono fatto la mia miniera dove si scende qui per illuminare ho fatto un piccolo un piccolo buco e mi sono messo a cercare cerca cerca ecco questa qua è la prima strada cerca cerca sto cercando questa miniera qua avevo trovato un po' di minerali ecco perché lo vedevo un po' tutto sfatto cerca cerca e non trovavo nulla ho detto qua no basta torniamo indietro andiamo a posare la roba nel box e andiamo da qualche altra parte allora poi ero andato a posare la roba nel box vi sto facendo tutta la telecronaca di questa mappa praticamente sono andato nel box ho detto bammo tiriamo dritto però allora tiro dritto dritto vado un po' qua giro perché qua avevo trovato tipo un mi pare due tre blocchetti di ferro messi qua mi sembra si vedete che è un po' aperto qua allora ho detto andiamo di qua adesso bababababababa scava 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 e zang l'avevo trovata ragazzi e allora ho detto bene qui interrompo la mappa non vado più avanti piazzo soltanto oddio dicevano zombie ho detto qui piazzo soltanto qualche torcia infatti se vedete ho già un pochino esplorato ma niente di che soltanto per illumina un po' vedete quasi andando qua mi pare qua sotto però non ho fatto niente ho lasciato la appunto la la miniera questa qua tutta invariata infatti vedete ancora il carbone qua mi sembra che da qualche parte avevo visto anche il ferro vabbè comunque c'è mi ricordo qui varie strade e niente ho pensato appunto che potesse essere carino farla con Xeon e visitarla tutta magari fino a trovare il portale poi non sconfiggeremo mai il drago però se magari troviamo il portale è una bella cosa voi magari ci dite dove andare cosa fare beh sarebbe figa penso quindi ditemelo nei commenti se volete che usiamo questa mappa come mappa per per fare una nuova serie diciamo e qui appena sceso guardate il culo che ho avuto sono sceso qui no ho detto cavolo una cesta in genere ci stanno i meloni queste cose qua ho detto mi faccia una bella piantagione apro cioè che culo io non avevo mai visto che dentro una cosa del genere ci fossero tutti di tutte queste cose ho trovato diamanti lapislazzuli lingotti di ferro d'oro ho detto vabbè non tocchiamo niente facciamolo vedere e quindi niente ho lasciato tutto invariato oh aspettate ragazzo sto a morire facetemi mangiare un po' zombie combattimento ok e niente io penso che sia figa mo ditemi voi cosa ne pensate se vi piace questa mappa io a me piace io la vorrei fare se anche a voi piace è un'opportunità per farla per farla insomma ecco uno scheletro ya 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 bastardo bello oddio scappa scappa che mi esplose oddio 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 ragà ragà queste cose sono quelli bastardi no questo video doveva essere tranquillo guardate là un altro kiwiper dio dove si va via ok ragazzi mi sono perso eccolo che ragazzi vi ho messo anche un po' di 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 azione in questo video non volevo onestamente ecco too many items serviva appunto per questo per queste occasioni nel caso succede se va una cosa del genere non perdevo niente adesso rischiedo di brutto e penso di andarmene sì sì penso proprio di andarmene oh mio dio uh facciamo una lucetta qua perchè vedo un po' troppo buio mamma mia ragazzi che rischio che rischio fatemi sapere cosa ne pensate com'è venuta secondo voi e se vi piace come mappa e niente quindi adesso risalgo e mi metto qui chiudiamo questa botola e me ne vado sopra è pure notte andiamo a dormire ma aspettate ok nel mio letto ok così va meglio ciao allora torniamo su ah ricapitolando nei commenti scrivetemi se vi piace questa casetta che ho fatto in questo tempo che stavo in vacanza ditemi come cosa ne pensate e come la posso migliorare se volete che è la miglior e ditemi soprattutto se volete che dopo Skypyramid io e Xeon continuiamo con questa mappa o volete che iniziamo da zero proprio e quindi dicendovi queste cose io vi faccio un saluto mi metto a vedere la televisione anzi mi metto a vedere la vista mare un saluto da Snakino e a un prossimo video ciao ragazzi di un saluto di